Ciao a tutti! Stiamo realizzando la copertina del Canto dell'Ape! Voglio ringraziarvi per l'enorme successo della campagna di Music Riser. In sole due settimane abbiamo raggiunto l'obiettivo, quello economico. Ad oggi avete partecipato in 125, diventando co-produttori del disco, ma serve ancora il vostro supporto per l'obiettivo più importante. Il raggiungimento di 200 Riser sblocca l'ultimo livello di Music Riser Accelerator che ci garantirà il lancio del disco sul mercato discografico con un contratto di distribuzione fisica e digitale. Quindi non vi resta che partecipare! Occhi di Dio, facciamo il Canto dell'Ape! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!